Nel senso che nessuno di noi vuole cambiare le regole. Le regole sono state cambiate l'ultima volta nel 2003 per consentire alla Francia e soprattutto alla Germania di superare il tetto del 3%. Allora il governo italiano, guidato da Silvio Berlusconi, accettò di violare le regole per fare un favore alla Francia e alla Germania. Questo è accaduto in passato. Non è più accaduto nel senso che noi abbiamo una grande capacità di rispettare le regole e continuiamo a farla. La questione bancaria non è all'ordine del giorno, nonostante che sia, credo, in molti vostri pezzi. Non è all'ordine del giorno perché è una questione che non vede delle richieste di modifiche di regole. Come è noto, l'ho detto però mi pare anche a Berlino, quindi non vorrei ripetere la risposta, mi perdonerete su questo. Come è noto, purtroppo noi abbiamo perduto l'occasione di intervenire in modo strutturale come ha fatto la Germania. Direi intorno al 2010, forse un po' più 2011. La Germania, così lo diciamo con molta chiarezza, la Germania ha messo 247 miliardi di euro per salvare le proprie banche. L'Italia non lo ha fatto perché chi stava al governo in quella fase ha scelto di noi. Quindi ho rispetto per il presidente Berlusconi, per il presidente Monte e per il presidente Letta. Quando si poteva fare non l'hanno fatto. Punto. Ma è inutile stare a far discorsi.